Poco dopo le ore 14 e 30 è stata avvertita una forte scossa di terremoto in Piemonte. La magnitudo rilevata è stata di 4,3. L'epicentro del sisma è stato nel comune di Cumiana nel Pinerolese, ad una profondità di 25 km circa. La scossa è stata avvertita in tutta la regione e anche nella limitrofa Valle d'Aosta. Nella città di Torino è stato percepito in modo molto più lieve rispetto alle aree vicine all'epicentro. Nei comuni limitrofi a Cumiana molte persone sono scese in strada. Il presidente dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, Enzo Boschi, ha dichiarato che nelle prossime ore vi saranno altre possibili scosse di assestamento.